E' il solo lo capito Lo spillo da lontano Bug, lag Già, credi che ci crede, che ci crede, che ci chiede, inizia il vlog facendo la cacca a terra Ah, ho visto Ma quell'uno E' l'ora O' i minuti Quando Chico mi ha detto, no, sono i minuti E' voluto un bel doppio Ma anche un'ora, mi sarei spaventato di più Ti fa più stavuti 45 iscritti Ci siamo infatti a Marietta il coaching games, come potete notare Ce ne abbiamo uguali E questo gioco lo facciamo per lo speciale di 40 iscritti No, l'ho toccato Cacchio, che è, come ho fatto il gioco? Ma questo prima non era girato? Perché sono due? Allora, vedete Questo è il mio bellissimissimo computer Perché, aspetta Perché si vedono tre computer Questo Perché vedete voi Questo 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 Vedete quante mani mie stanno Ho scorreggiato Perché abbiamo fatto il vlog di venerdì Sì, però io sto sempre qua Perché Ti tussa Sempre Ok Aspetta Allora, praticamente Siccome abbiamo anticipato il vlog di venerdì Perché domani, appunto, uscirà un Un gioco Un gioco Epicissimo Se il video vi è piaciuto Come al solito Mettete mi piace Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi E noi ci vediamo al prossimo video Ma da qua che sa tutti Piii